Siamo un po' anche noi giornalisti che siamo sempre a caccia dello slogan, della polemica Il giornalista deve trovare delle cose che siano interessanti E le cose interessanti sono spesso le cose che polarizzano, che dividono Sì, a volte adesso la differenza è che qualcuno rende interessante Cioè, si va a mettere un titolo, un virgolettato che magari non è quello vero Io vi dico che da questo punto di vista ho un po' un problema Con i miei ospiti a Tikitaka, Supertele Pensavo a Antonio Cassano quando veniva da me Quasi andavo in protezione Cercavo quasi di recuperare